Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento l'applicazione infopotente dell'amico DeJag, Fabio, per Android. Andiamo a vedere, prima di questa maschera ci sarà una maschera che vi consentirà di fare il login, l'applicazione si appoggia direttamente al portale dell'automobilista, di conseguenza dovete prima registrarvi a tal portale e poi procedere con l'inserimento dei vostri dati. Come potete vedere qui sotto avremo poi la possibilità di esportare i dati in formato text sull'SD oppure esportarli sempre sull'SD in formato CSV, inviare i dati, per inviare i dati abbiamo varie possibilità Bluetooth, Rotsync, Facebook, Gmail, messaggi, Twitter, praticamente tutto. Abbiamo una veloce guida dove potete cercare di capire bene come funziona il programma, poi vi farò vedere che il programma funziona anche il text to speech, veramente interessante, abbiamo varie impostazioni, possiamo visualizzare le notifiche durante il login, blurring di sfondo, l'anticipo del promemoria e attivare o disattivare il text to speech. Qui l'anticipo del promemoria è di circa 30 minuti. Torniamo pure indietro, andiamo a vedere, qui abbiamo la maschera dei punti patente, ovviamente i miei dati sono fuscati, qui c'è un utente generico, abbiamo ad esempio il punteggio iniziale e poi a scorrere tutte le varie, qua c'è l'incremento per assenza di violazioni, purtroppo un verbale e qui sotto l'ultimo cambio è i punti che mi sono stati riaccreditati per assenza di violazioni negli ultimi due anni. Vi faccio vedere, ad esempio se tenete premuto, vi parte il text to speech, volete sentirlo per tutto, cliccate come avete sentito avete il text to speech su tutti i dati, utilizzabile anche qui, abbiamo la possibilità di vedere le note, i dati sono giornati con frequenza settimanale e ci sono varie istruzioni, potete creare un evento, praticamente l'evento in questo caso verrà creato per quanto riguarda, allora vi fate vedere, dovrebbe esserci la scadenza, data di nascita, data scadenza, qui c'è la patente, se create un evento potete crearlo sia sul telefono che su gmail, praticamente alla scadenza della patente vi arriverà il pro memoria, adesso non ho capito se è 30 giorni o 30 minuti prima, penso che sia 30 giorni a questo punto perché 30 minuti avrebbe poco senso, comunque potete creare l'evento, abbiamo i veicoli intestati, su cui abbiamo le varie informazioni del veicolo, qui ad esempio abbiamo la scadenza della revisione, se andate a creare l'evento del calendario vi dirà quando è la scadenza della revisione, vi avviserà prima, penso 30 giorni comunque, e anche qua idem, test to speech e le note per avere le varie informazioni, vi spiega cosa fa questa maschera, e poi avete visto anche le altre informazioni della macchina, e poi è importante, abbiamo anche i centri di revisione, dovete fare la revisione e andate a vedere quello che è più vicino a voi, ad esempio nel mio caso più vicino dovrebbe essere Ossona, Enveruno, andiamo a vedere, ci sono i vari dati del centro di revisione, qui potete vederlo sulla mappa, chiamarlo, text to speech come abbiamo detto, o le note, oppure ad esempio decidiamo di vederlo sulla mappa, per vedere dov'è, ci facciamo un'idea, poi tramite Google Maps possiamo fare il naviga verso, e andare direttamente al centro di revisione, ora vabbè sta acquisendo il segnale, siamo in casa, sta pure piovendo, nevicando, e chi più ne ha più ne metta, non stiamo a perdere tempo per niente, comunque avete visto una gestione veramente ben fatta, come vi dicevo per ogni maschera avete il vostro menu inferiore, tramite le quali potete accedere al text to speech, registrare un evento, oppure andare alla mappa nel caso del centro di revisione, l'applicazione ovviamente la trovate nel market, nel market, è in fase di sviluppo, l'amico Fabio sta apportando delle migliorie, man mano che va avanti col tempo, che ha tempo di farle, e devo dire che è già comunque veramente molto funzionale, perché due informazioni fondamentali, come scadenza della patente, e scadenza della revisione, sono già disponibili, verrà poi in seguito incrementata anche la scadenza del bollo, e da quel punto in avanti direi che l'applicazione sarà molto ma molto completa, ringrazio ancora Fabio per avermi inviato una copia, e un saluto da Loris, AES Battista 70 per Battista 70 Phone, ciao!